Ciao ragazzi, oggi vi presentiamo un prodotto particolare, si tratta di Touchscreen Glows di ProPorta ossia dei guanti capacitivi che ci consentono di utilizzare il nostro tablet o smartphone indossando questi guanti utili nelle giornate invernali quando fa molto molto freddo adesso faremo un test veloce per far vedere come funziona io indosserò un guanto solo perché comunque è più che sufficiente prendiamo il nostro Samsung Galaxy Nexus e vediamo come si riesce tranquillamente a interagire vedete, i guanti sono praticamente in lana, sono molto comodi, sono universali quindi una taglia soltanto, abbiamo tre dita abilitate a interagire col Touchscreen ad esempio il minero non va, infatti vedete come non si riesce a interagire e vedete appunto com'è, il tutto risulta molto rapido e comodo proviamo anche a scrivere qualcosa, ad esempio Amazon, vedete si scrive benissimo ovviamente non soltanto smartphone ma anche tablet questo esempio è un HP Touchpad, quindi un tablet e vedete come appunto possiamo tranquillamente interagire vedete, in tutta comodità quindi dei guanti veramente molto molto utili quindi se cercate una soluzione per l'inverno vivete magari in qualche posto dove particolarmente fa veramente tanto tanto freddo esattamente utilizzate appunto dei guanti per non gelarvi le mani e avete un prodotto capacitivo come tutti i dispositivi tablet, smartphone odierni questi guanti di ProBorto possono fare a casa vostra sono veramente un prodotto molto molto utile e che noi appunto non possiamo fare altro che consigliare e con questo è tutto, un saluto da Matteo di Android Geek Grazie a tutti Grazie a tutti